Musica Benvenuti al nostro TC Sport cari amici di Telemolise. In apertura parliamo del campionato di serie D, 31esima del girone F. Vediamo i risultati. Amiternina Fano 1-0, Ancona Recanatese 1-1, Boiano Iserni a 0-3 a Tavolino, Iesina-Giulianova 3-2, Maceratese-Sulmona 3-0, Matelica-Celano 0-0, Limpia-Agnonese-Termoli 0-0, Renato Curi-Civitanovese 3-2, Pesaro-Fermana 2-2. In testa è vincitrice del campionato di questo girone F, Lancona, quota 71, Matelica 61, Termoli 60, Maceratese 55, Pesaro-Iesina 45, Giulianova 44, Celano, Fano e Fermana 41, Recanatese 40, Civitanovese 39, Amiternina-Agnone e Sulmona 37, Renato Curi 26, Iserni a 24, Boiano 1. È terminato a reti inviolate un bel derby, quello disputato ieri al Civitelle tra l'Olimpia agnonese ed il Termoli. Ci sono tutti gli ingredienti al Civitelle che fanno del derby tra Olimpia agnonese e Termoli una gran bella partita. 90 minuti intensi in una gara vincente, giocata sempre a ritmi elevati. Di occasioni da gol ce ne sono state diverse, tra le più importanti per i padroni di casa annotiamo al 17esimo questo passaggio di Pettrone per Mancini che becca la traversa con la sfera che esce dalla porta ed è al sicuro tra le mani di Patania. Passa qualche minuto e ci riprovano in Granata con Esposito che trova la respinta di pugni dell'uno ospite. Al 26esimo è il Termoli a farsi pericoloso con Todino ma la sfera si spegne a lato. Al 29esimo Esposito riesce a tenere in gioco la palla e a servire Pettrone che manda però alto. Di lì a poco è ancora Fanta Esposito a sfidare Patania che chiude in angolo. Al 40esimo conclusione di Toscano davvero insidiosa ma Biasella si supera. e salva la sua porta. Si archiviano così i primi 45 minuti con l'Agnonese che osa più del Termoli annullando sul rettangolo di gioco i tanti punti che le dividono. Il secondo tempo riparte con questo tentativo di Manzillo dalla tre quarti ma il suo destro termina alto sulla traversa. La risposta dell'Agnonese arriva al decimo minuto con Esposito che manda di poco a lato. E al 14esimo registriamo un'espulsione per i giallorossi. è Santoro che commette fallo su Di Lullo e deve guadagnare anzitempo gli spogliatoi. Il Termoli reagisce all'inferiorità numerica. E annotiamo prima questo tentativo di Palumbo che termina alto e subito dopo questa conclusione di Di Mercurio che trova la respinta di Biasella. Al 26esimo arriva il secondo rosso per il Termoli questa volta ai danni di Toscano per un colpo in barriera a palla ferma. Al 32esimo Esposito supera la difesa e la sua conclusione è deviata in ancolo da Padania. Arrivati al 42esimo annotiamo la terza espulsione del match questa volta tra le fila Granata. Il rosso è per Wade appena entrato in campo che colpisce in modo irregolare la rosa. Termina così l'incontro. I tre punti erano importanti per entrambe le compagini, ovviamente per obiettivi diversi che sono ancora tutti da raggiungere. Torneo delle Regioni. La formazione Juniores di Marinelli ha esordito con una sconfitta di misura contro la Sardegna nel pomeriggio alle 16. Nunziate e compagni affronteranno la Lombardia. Vittoria per gli allievi di Risio ieri 3-0 con i Sardi. Questa mattina la seconda gara la rappresentativa Molise ha perso 3-0 con la Lombardia. I giovanissimi di Oriente hanno perso sia ieri 3-0 con la Sardegna che questa mattina 1-0 con la Lombardia. Per finire ieri netto 4-0 della squadra molisana di calcio a 5. 4-0 il definitivo. Oggi pomeriggio alle 15 la rappresentativa di Fiorilli in campo sempre contro la Lombardia. Campionato di eccellenza, allenamenti fermi per il Campobasso dopo un tour de force durato circa due mesi in cui la squadra ha giocato intervallando la domenica al mercoledì. Il campionato di eccellenza riprenderà il 27 aprile solo due le partite al termine della stagione. A proposito della squadra, Rosso-Blu ai nostri microfoni, Carmine Guglielmi. Allora innanzitutto mi fa molto piacere rivederti. L'operazione come è andata? No, l'operazione è andata bene, siamo stati molto contenti di come ci hanno trattato qui a Campobasso, dico la verità. Il dottor La Flores è stato impeccabile, quindi per il momento sotto quel punto di vista tutto bene, ora ha iniziato la fase di riabilitazione con Domingo, quindi inizio a intravedere la fine del tunnel. Quindi si vede un po' di luce in fondo a questo brutto tunnel, quanti mesi dovrebbe costare questa fase riabilitativa? Sicuramente stagione nuova, sicuramente. Poi se fine luglio oppure agosto, su questo non possono sbilanciarsi più di tanto, dipende molto da me e dalle mie capacità guaritive. Senti, un infortunio molto grave il tuo, vorrei un pensiero proprio personale, anche quasi uno sfogo da parte tua su tutti questi infortunati. L'ultimo in ordine di tempo di Lallo alla testa è davvero una stagione trionfale, ma tutti voi non potete non essere menzionati perché alla fine è stata un'infermeria sempre piena, ma tutti vi siete fatti male in maniera molto molto grave. Sì, questo è un dato di fatto che tutti gli infortuni che abbiamo subito quest'anno sono stati molto gravi e molto lunghi. Partendo da Pignataro, Perone, Frattura, due mesi. Monti, Crociato, Corradino, lesione a rene, due mesi. Io che, vabbè, Tibia, Perone, sindrome compartimentale, c'è un po' di tutto e quindi sei, sette mesi. Federico non in ultimo, insomma, io sono giunto alla mia conclusione, nel senso che non me ne vogliono, ma è un po' anche la categoria. Perché oggi sentivo per caso anche l'intervista di Federico, nel momento in cui vedi che sei in ritardo su una palla, cioè io credo che sta nell'intelligenza della persona fermarsi anche perché rischi di farti male seriamente e questo è il minimo denominatore, insomma, che ha legato tutti questi infortuni. perché per me sono quasi tutti inconcevibili, ecco, però purtroppo, insomma, ci siamo capitali. Fortunatamente quelli che sono rimasti abili hanno dato quel qualcosa in più per raggiungere gli obiettivi e quindi perlomeno, diciamo così, i nostri sacrifici, tra virgolette, sacrifici, sono stati ripagati in altro modo. Palla a polo di cadetteria, la squadra maschile di Agnone ha perso 3-0 contro il Lago Negro. La formazione femminile di Iserni ha battuto tra le mura micche 3-1 il Turi. Adesso la promozione, si è giocata la ventottesima giornata, i risultati. Campodipietra Riccia 1-2, Casalnuovo Matese 3-3, Castelmauro Cerce Maggiore 2-4, Civitanova Molise 0-1, Toroacli 2-1, Real Termoli Vinchiaturo 2-1, Roccasicura Spinete 2-0, Torremagliano Maronea 0-1. In testa, Matese 66, Casalnuovo 61, già promosse, Riccia 59. Al Riccia manca solo un punto per la matematica promozione, Cerce Maggiore 45, Real Termoli 43, Acli 42, Castelmauro 39, Torremagliano 37, Vinchiaturo 36, Molise Toro 31, Roccasicura 28, Campodipietra 27, Spinete 26, Maronea 25, Civitanova 17. Al Cerce Maggiore il difficile match con il Castelmauro. Al San Lorenzo il match tra Castelmauro e Cerce Maggiore termina sul risultato di 2-4, a dirigere l'incontro il signor Delicarpini di Sernia. Nel primo tempo la formazione ospite passa subito in vantaggio al decimo minuto con un gol di Stefano Zurlo, ma le sorti dell'incontro si decidono tutte nella ripresa. Il Castelmauro, anche se archiviata la pratica salvezza, prova a farsi vedere al quinto minuto con D'Angelo dalla sinistra al centro per Moscufo Granata-Para. Al dodicesimo i ragazzi di Esposito riacciuffano il pareggio. Fallo di mano in area di Felice per il direttore di gara non ci sono dubbi ed è calcio di rigore. Dal dischetto vanno Taro e Destro che si infila per l'1-1. Il Castelmauro inizia a credere nella vittoria e prova a farsi vedere. Al diciassettesimo di Nuoscio prova il Destro dalla distanza Granata-Blocca. Dopo un minuto il Cerce Maggiore resta in dieci uomini per l'espulsione per doppia munizione di Francesco Nardacchione che si lascia andare un po' troppo con le proteste. Al ventiduesimo paradossalmente con un uomo in meno, però i bianco-azzurri si riportano nuovamente in vantaggio. Calcio d'angolo di Stefano Zurlo al centro per Veronesi che va a realizzare il gol del 2-1. I padroni di casa però non ci stanno. Alla seconda sconfitta consecutiva in casa e al trentanovesimo ristabiliscono la parità. Calcio di punizione di Notaro in area. Serie di rimpalli Granata non trattiene lì davanti Trolio che ne approfitta per il 2-2. Neanche il tempo di gioire però per il gol che dopo un minuto il Cerce Maggiore si riporta in vantaggio. Dormita generale della difesa di casa Stefano Zurlo lasciato solo a tutto il tempo di servire di Florio che va a segnare il gol del 3-2 per gli ospiti. Ma il match non termina qui perché sul finale c'è ancora il tempo per Cipullo e Di Suoi di realizzare il poker. Grazie alla rete è arrivata al 44esimo di Gianluca Nardacchione. Termina così l'incontro. Il Caster Mauro ormai già salvo matematicamente tra due settimane affronterà in casa per la penultima di campionato il campo di Pietra. Il Cerce Maggiore invece con i tre punti guadagnati continua a sognare i play-off per il salto di categoria. Al Rocca Sicura lo scontro salvezza con lo Spinete. Al comunale di Rocca Sicura si affrontano nel match valevole per la 28esima giornata del campionato di promozione Rocca Sicura e Spinete. Buon match che ha visto trionfare padroni di casa per 2-0 dopo 90 minuti di emozioni e colpi di scena. Ma andiamo alla cronaca della partita. Un primo tempo dove assistiamo a buoni 25 minuti di studio ma il 28esimo si sblocca il risultato. Cross di Stefano Santilli. Tocco di mano di Iamente. Per il signor Gioviani della sezione di Termoli è rigore. E sul dischetto va di Pietrantonio che non sbaglia ed è 1-0 per il Rocca Sicura. Terminano così i primi 45 minuti di gioco sul parziale di 1-0 e con le immagini di Giancarlo Bustelli passiamo alla ripresa. Ripresa dove vediamo il nuovo entrato pace a provarci ma palla ampiamente alta. Due giri di lancette dopo è sempre lo Spinete a farsi sotto ma Ciarlone mette in corner. Al quinto nuovamente ospiti su calcio piazzato ma Gianni Ruberto spara centrale. E all'undicesimo ci riprova pace ma Ciarlone dice ancora di no. Al 34esimo lo Spinete rimane anche in 10 espulso Rossini prima per aver commesso fallo su Lombardi e poi per qualche parola di troppo. Ma un minuto dopo contrasto tra Ditanna e Ciamarra e il direttore di gara segna un rigore. Tra le proteste generali. Sul dischetto va pace che fallisce malamente. E nel finale al 48esimo Lombardi serve il nuovo entrato Vannuccini che prima spara sul portiere e sulla ribattuta però non perdona. Per il 2-0 finale. Termina così il match. Spinete che deve ricaricare le batterie e aspettare il confronto contro il Real Termoli. Rocca Sicura che conquista tre punti importanti per la corsa ai play-out. Vannuccini Basket in divisione nazionale B. Vittorio in esterno per il Venafro a Francavilla 82 a 76. Divisione nazionale C. Lisenne ha ceduto al Campli 71 a 65. La squadra bianco celeste inserita nei play-off e affronterà nel primo turno il Campli. In C regionale Termoli Teramo 73 a 61. Ripa Limosani ha perso 79 a 50 con Pescara. Al Palavazzieri l'NBC ha perso 77 a 49 con il San Vito Ortona. Alla palestra della nuova comunità il Campo Basket ha superato di un punto il Teramo 87 a 86. Terminata la regola season al via la fase ad orologio per i play-off. Il Termoli nel primo turno è stato accoppiato con il Roseto retrocessa l'NBC. Basket giovanile under 17. Il Campo Basket ha archiviato una stagione positiva sconfitta nella finale regionale dalla nuova cestistica. La squadra bianco-verde è ugualmente soddisfatta. A fine gara abbiamo intervistato il capitano Pianese. Vincenzo Pianese capitano del Campo Basket. Una sconfitta in questa finale under 17. Possiamo dire contro una squadra di C regionale. Fin dall'inizio ci aspettavamo una partita difficile ma considerata l'importanza comunque ci abbiamo messo del nostro, abbiamo speso tutto quello che avevamo. Alla fine che vinca il miglior ecco queste partite sono importanti anche per ribadire l'allenamento che è importante sempre per migliorare. Quindi meno male che ci sono queste partite. Sperando che col tempo come sicuramente faremo, miglioreremo e faremo più progresso. Atletica la sedicesima edizione della Maratona dei Fiori organizzata dall'Avis di San Benedetto del Tronto. Ai nastri di partenza 1.530 atleti di cui 200 donne. Rappresentare il Molise, la Runners Termoli, la Nuova Atletica Isen, l'Atletica Agnone e la Molise Amatori. Con i 22 chilometri da percorrere, il migliore in gara è stato Antonio Costa tra gli M35 della Nai, ventitresimo assoluto. Calcio a 5 definite le finali playoff dei campionati di C2. Nel girone A il Castel del Giudice ha superato 5 a 4 il Pietra Cupa. La Futsalpentri ha eliminato il Sant'Elena. Su questa gara il servizio. La semifinale playoff gara secca tra la Futsalpentri e l'Acqua Molisia-Sant'Elena-Sannita se la giudica la compagine di casa che supera il team di Antonio Giarrusso per tre reti a uno. Servono però i tempi supplementari al team di Isernia per superare i rivali del Sant'Elena. In rete Salamone, Antenucci e Dinucci, mentre per il Sant'Elena-Sannita in gol Miniello. La Futsalpentria approda in finale del campionato di serie C2. Girone A ad attenderla. Ci sarà il Castel del Giudice che ha superato nell'altra semifinale il Pietra Cupa. Di seguito gli highlights dell'incontro. Poi l'Allis cerca addirittura quasi uno sfondamento in stile reggbistico. Attenzione perché d'Alberto può puntare Miniello. D'Alberto, bella giocata d'Alberto e il tiro! La grande risposta di Mandrone. Poi Miniello. Armanetti. Per Reale, il numero di Reale. Attenzione Reale, il piazzato. Poi c'è il salvataggio da parte di Fornaro. D'Alberto. Attenzione in aria, arriva il gol. L'assist preciso da parte del numero 11 Carnevale per Capitan Salamone che va a realizzare il gol della Futsalpentria. con il buon anticipo di Armanetti. Poi cerca lo spunto sulla sinistra. In dietro c'è Reale per Terriaca. Il numero di Terriaca forse è trattenuto. Terriaca l'ha giocata. Entrato dei Tollis. Qui Polidoro. Per D'Alberto. Attenzione D'Alberto. Libera il sinistro. con la sfera che termina fuori. Che occasione? 24 e 10 per questa occasione. Ancora Armanetti. Miniello. La conclusione. Gol da parte di Miniello. Il gran gol con la sfera schizzata davvero. vediamo questo tiro libero va Reale la punta e la risposta di Esposito. La calcia direttamente in rete per il gol della Futsalpentria con la grande esultanza da parte di tutti i giocatori anche quelli della panchina. Armanetti. Anzi è Miniello. Il tiro di Miniello. la sfera che termina direttamente fuori. Ancora Reale sulla corsia di destra. C'è il buon recupero di Di Nucci. Attenzione il cotopiede portato da Di Nucci. C'è solo D'Alberto. Di Nucci. 3 a 1. Va a battere Terriaca il tiro libero. La risposta ancora di Esposito. Ancora Terriaca prova ad andare via Terriaca salta un po' tutti Terriaca al centro. La sfera si blocca. Davvero sembra essere finita. Infatti finisce adesso la Fuzzalpetria gioisce e arriva in finale playoff del campionato di Serie C2 girone B. Nel girone B è passato direttamente in finale playoff il San Martino che affronterà il Kemarin che ha superato 6 a 5 la Saracena. Basket giovanile la nuova cestistica Campo Basso può contare su circa 100 bambini nel mini basket. La società riesce a coprire tutte le fasce d'età e prende parte ai diversi tornei regionali. Ai nostri microfoni Mimmo Sabatelli. Mimmo Sabatelli 7 anni sono trascorsi dall'inizio del progetto nuova cestistica Campo Basso dedicato ai più piccoli. Si stanno raccogliendo effettivamente i frutti? Sì sicuramente noi siamo partiti 7 anni fa con un progetto importante siamo partiti in punta di piedi con numeri abbastanza risicati perché eravamo proprio all'inizio però con tanto entusiasmo sia da parte mia da parte della società da parte di tutti gli istruttori che fanno parte di questo progetto Mario, Rita, Gino, Nicola ma tutti quanti non ripeto Vera che poi da giocatori ci ha dato una mano quindi diciamo che è un progetto che è nato piano piano e che oggi ci comincia a far raccogliere risultati importanti avere un numero importante di bambini di tutte le età coprire tutte le fasce di tutti i campionati riuscire a partecipare a tutti i campionati quindi credo che che il lavoro ci sta premiando siamo contenti di questo e sicuramente non sarà un modo per fermarci anzi sarà da sprono per continuare a lavorare in maniera seria importante per far sì che questi numeri possano aumentare sempre di più basket maschile ma anche basket in rosa abbiamo visto comunque qualche piccola bambina che si avvicina a questo sport sì sicuramente nel mini basket cominciamo ad avere anche tante femminucce ma devo dire che quest'anno siamo riusciti a fare anche un gruppo femminile allenato da Rito Pirosanto che è aumentato anche lì siamo partiti da sei ragazze siamo arrivati a 14 15 purtroppo non c'è stata la fortuna di fargli fare un campionato speriamo di fargli fare al più presto esperienze fuori regione perché hanno bisogno anche di fare questo però ripeto è un progetto che sta abbracciando anche il settore femminile di questo siamo veramente contenti campionato di prima categoria il guglionese riuscito a strappare un punto alla capolista Real San Martino pari e patta nella derby quello della decima giornata di ritorno nella campionato di prima categoria il raggruppamento è quello del basso molise quindi il girone si gioca nella domenica delle palme davanti ad un buon pubblico e si ritorna al nuovo comunale quello di guglionesi quello che ha ospitato tantissime partite di eccellenza ma anche di serie D per il petacciato pronti via i lupetti guglionesi che ricevono la prima della classe il Real San Martino partita abulica un po' nel primo tempo dove si vedono poche cose al decimo il primo tentativo della compagine ospite con il cross dal fondo di Mezzalingua la ottima girata da parte di Monte e vola in tuffo dei liquadri per evitare il gol alla squadra del guglionesi ventunesimo ci prova ancora la squadra ospite della leadership del campionato con l'ottimo arresto palla per Abiuso che prova la fiondata con il sinistro la sfera va a far la barba al paloma quando meno te lo aspetti esce fuori il guglionesi dal lungo rilancio in profondità da parte di Pagiotta il pallone sfila in avanti il colpo di testa all'indietro di Mezzalingua esce male il portiere del San Martino e il centrocampista Fulvio riesce nell'Euro goal quello incredibile con la palla a giro che si va a spegnere in fondo al sacco è un Euro goal quello per il giocatore Fulvio Francesco Fulvio 18 anni per lui questo è il piazzato vincente quello che scavalca praticamente la retroguardia del San Martino e dà il vantaggio ai lupetti del guglionesi succede ben poco nella prima frazione di gioco con la gara che ristagna prevalentemente a centrocampo con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa sicuramente più importante ma si vedono subito i padroni di casa ancora con il tentativo di Fulvio che trova il gol del 2 a 0 però la sua posizione era irregolare pronta la segnalazione dell'ottimo direttore di gara Gianmarco Meo arriva dalla sezione di Sernia poi sarà solo e soltanto San Martino al settimo questa conclusione dalla media distanza di Daniele De Benedictis fa gli straordinari il portiere poi c'è la posizione irregolari di Abiuso ancora Real che macina gioco minuto numero 14 il fiondente in area di rigore il tentativo con la palla sul fondo è di Esposito Bruno con la palla che termina con una di foto nel fondo 26esimo costruisce benissimo De Benedictis palla in aria si gira di prima intenzione Francesco Caterino palla alle stelle con la sfera alta sulla traversa minuto numero 32 l'affondo è ancora della compagine di casa con il tiro in corsa ad incrociare di capitano Abiuso sfera sul fondo ma al 38esimo dagli eridagli arriva puntuale il pari della squadra leadership del campionato Esposito che imposta sull'out palla in mezzo leggermente deviata arriva con l'esterno sinistro in corsa Abiuso il capitano che riesce a scardinare la retroguardia del Guglionese il gol quello del pareggio quello che dà il meritato pareggio al Real San Martino alla capolista che esce indenne dal nuovo comunale quello di Guglionese dove i Lupetti riescono a fermare sull'1-1 la marcia della capolista Real San Martino a proposito della prima categoria vediamo i risultati Girone A con Cagasale Carullo 2-4 Carpinone San Pietro 2-2 Cerro Macchia 0-2 Colli Prata 3-2 Montenero Sanniti 0-1 Pesche Forulum 2-1 Rufre Pizzone 2-0 a riposato Sestolese In testa Macchia 56 già vinto il campionato 49 il Real Prata 44 Sanniti Carpinone e Sestolese 43 Girone B Baranello Mirabello 0-2 Ielsi Ripalimosani 0-0 Cerce Maggiore Fossaltese 4-2 Colle Danchise Macchia Valfortore 2-5 Morgia Volturino 1-1 Murgansia Gildone 2-2 Pietra Montecorvino Oratino 8-0 In testa troviamo Ripalimosani Eccolo qui 55 Real Cildone 53 Pietra Montecorvino Cerce Maggiore 49 Il Girone C San Giacomo Endas 0-3 Frentania Petacciatese 5-0 Cuglionesi San Martino 1-1 Quartiere Nord Campobasso Calcio 4-2 Rinviata Sant'Angelo Larino Santo Stefano Sporting Termoli 1-1 Ururi Campomarino 2-2 Riposato Colle Torto In testa Al Girone C San Martino 57 Frentania 50 Sporting Termoli 48 Quartiere Nord 46 Vi ricordo Vi ricordo L'appuntamento Di questa sera Alle ore 21 Molise a calci Con Gianni Bruno Tabita Morgese Ci saranno ospiti Commenti Opinioni E naturalmente La nostra Moviola Molise a calci Alle ore 21 Sempre e naturalmente Su Tele Molise E tutto Buon pomeriggio Bis zum nächsten Mal Tač Bo Do Do Do